Allora cari amici eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattina, buona serata, quando insomma mi vedete è il momento buono per avvertirvi della buona novella, ossia pregamente finalmente nuovi proiettili di cristallo si aggiungono nelle meravigliose discipline analogiche e questo avviene proprio sabato 11, questo sabato 11 settembre ore 10.30 presso la nostra sede online avremo modo di parlare del Master Class Bomba 2021, veramente un Master Class di bomba, come sarei dire di bomba atomica per essere preciso perché rappresenta una delle tappe evolutive più importanti delle discipline analogiche in relazione a sia sistemi di comunicazione aggiornati, sia sistemi di ipnosi e sia sistemi relativi alla fisioanalogia e alla filosofia analogica inevitabilmente, ossia la ristrutturazione personale e quindi abbiamo modo di poter toccare gli elementi fondamentali che hanno permesso di studiare profondamente gli attori principali di questo Master Bomba e quali sono questi attori principali? Gli attori principali sono praticamente il demarcatore ipanotico, ricordate sottolineo demarcatore ipanotico, ossia questo elemento che governa la nostra mente, i nostri pensieri a nostra insaputa, questo è un problema, un fatto importante, esso può rivestire un ruolo di consigliere nel problema ordinario ma assolutamente, oserei dire di carnefice o se preferite coercitivo o killer praticamente nel problema di aberrazione. E questo grande protagonista non può far altro che emergere l'altro aspetto fondamentale della protagonista del nostro Master, che è appunto il pensiero dell'individuo. Questo pensiero che cerca di difendersi dalla coazione a ripetere, ossia dalla paura che si possono di nuovo verificare le stesse sofferenze, gli stessi dolori che noi abbiamo vissuto nel passato. E quindi praticamente vorremmo definire che il demarcatore è un ponte di collegamento dentro la nostra mente tra passato e futuro. Ma siamo arrivati a queste nuove definizioni in quanto praticamente lo studio approfondito della struttura bipolare dell'individuo, diciamo così, che ha nel suo posto il monopolare, ha reso possibile l'approfondimento di queste conoscenze nell'uomo. E badate bene, non solo nelle patologie, ma anche nei modelli comportamentali. Ecco che qui capirete profondamente, perché ho detto una rivoluzione nel campo della comunicazione e dell'ipnosi, oltre che della ristrutturazione personale e quindi dell'aiuto che noi possiamo, come analogisti, offrire alle persone che hanno intenzione di poter toccare la dimensione olistica, ossia dare un rafforzo a quella scientifica allopatica, per poter arrivare alla soluzione dei nostri problemi. E quindi è in funzione di tutto questo che la struttura, vi do solo una chicca iniziale così, la struttura monopolare teme il giudizio perché ritiene che la sua crisi sia espressamente dovuta da fattori relativi sia agli affetti e sia praticamente al conflitto di genere. Questo è molto importante, il conflitto di sentirsi poco maschio o poco femmina, come sentirsi poco uomo o poco donna. Sono elementi fondamentali che entrano in gioco e vedremo in questi due giorni di Master, dove con approfondite esperienze anche nel campo, molta esperienza, che faremo, oltre che l'aggiornamento delle dinamiche in riguardo alla filosofia analogica, ci permetterà con l'applicazione della fisiologia di toccare i tre punti fondamentali di una ristrutturazione, che è l'aspetto diagnostico, secondo le DAB, secondo le discipline analogiche benemigliane, a cui farà seguito praticamente la linea del tempo come sistema matematico di intervento e, a non finire, la celebrazione per la decompressione del turbamento stesso, rapido, preciso e assolutamente funzionale e intelligente. Vi aspetto praticamente sabato e domenica e vi auguro una felice giornata. Salve a tutti, a presto e buona salute.